Quindi nascono nel 2012 da due formazioni passate, gli Harry Loman e gli Young Gang. Dopo qualche anno di inattività abbiamo deciso di ricominciare a scrivere canzoni, a raccontare cose che avevamo dentro e hanno preso vita così i quindi. Ed eccoci qua, pronti a rimetterci in gioco. L'album si chiama Esistenzialisti per gioco. L'idea nasce da una vecchia storia di cortometraggi che erano stati realizzati per ridere un po' sulla moda che c'era del situazionismo e degli esistenzialisti più o meno a metà degli anni 90, quando eravamo adolescenti. L'idea del disco è quella di non proporre un prodotto fisico, ma di proporre una versione in download digitale, una versione più legata all'editoria con un artbook che contiene le opere d'arte ispirate alle canzoni e una versione propriamente figurativa che è una mostra che noi chiamiamo versione Exhibition. Abbiamo deciso di presentare il disco in una serata che si terrà al Teatro Perempruner di Grugliasco il 17 di maggio. Sarete invitati a sentire un po' della nostra musica, a vedere le opere e speriamo che vi piacciano. Ispirazioni nascono nel nulla Sogni che ora si...